Io gli faccio i complimenti perché abbiamo visto una squadra praticamente perfetta in campo contro il Pescara, ci chiedevamo come negli ultimi otto partiti avesse subito solo un gol in casa col Cesena, abbiamo avuto le risposte questa sera, aggredire il Pescara, non farli ragionare, sfruttare l'uomo tra le linee era la vostra chiave? Sì, è stata una grande partita, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché ho chiesto di divertirsi perché veniva a giocare qui a Pescara e se non viene per divertirsi poi si mette tutti dietro, rischia di prendere tanti gol, invece sono stati bravi a giocare sulle linee, sono stati bravi ad attaccare il Pescara, credo che si meritava qualcosa in più noi. Io sono d'accordo con la sua analisi ma le chiedo quanto l'avevate preparata proprio nell'aggredire il ritmo blando del Pescara, un po' compassato lì in mezzo? No, ma loro giocano molto con il palleggio, io ieri ho chiesto ai ragazzi di andare a prendere l'altra perché se non riusciamo a recuperare la palla poi facciamo i contropiedi, io credo che nella partita dal primo minuto fino alla fine abbiamo sbagliato poco. Ma è mancato Totò Di Natale lì davanti per concretizzarla? No, faccio anche i complimenti a Elia che ha fatto un grandissimo gol e ci gioca davanti, non male che stiamo facendo un po' più fatica davanti però speriamo che allenarci qualcuno che farà qualche gol in più. Hai messo maglietta e pantaloncini qualche volta in allenamento? Ho provato ma dopo dieci minuti è meglio di no. Le chiedo un'ultima cosa, le chiedo potenziale offensivo molto importante quello del Pescara però se mi deve trovare un difetto qual è? Ma il Pescara è una squadra che può stare con i primi quattro davanti, c'è tante qualità, noi ti dico sono due mesi che stiamo giocando benissimo, i difensori stanno facendo un grandissimo campionato e continuiamo a lavorare. Posso fare una domanda? Grazie Totò, a proposito, un attimo che do l'auricolare allora a Totò Di Natale, intanto le volevo chiedere un po' il ricordo di questo stadio triatico di Di Natale perché so che è molto bello con la maglia azzurra, prego, l'auricolare. Sì, qui ho giocato con la nazionale e poi ho fatto i 150 gol in Serie A con la maglia dell'Udinese. Un bel ricordo, vai Massimo ti ascolta Di Natale. Sì, poi la ricordo con la partita nazionale perché l'ho intervistato nel dopo partita, vent'anni sono passati, caro Totò Di Natale, io le volevo fare una domanda perché questa squadra ha subito 25 gol nelle prime 13, soltanto 3 nelle successive 10, conseguenza del cambio di modulo? No, è successo anche, vabbè anche quello ci ha aiutato molto, però all'inizio abbiamo avuto tanti giocatori fuori, avevamo tanti ragazzi del 2001-2002 che giocavano la prima volta in C e qualcosa pacchi. Noi siamo la squadra che ogni domenica giocavamo con 6-7 ragazzi giovani, ti danno tanto ma ti panno tanto o meno, però poi quando ho avuto tutti i giocatori di esperienza con i giocatori giovani mi ha risolto il problema.